Il più cordiale saluto da ETG edizione marchigiana del nostro notiziario che ricordo va in onda in contemporanea sia sulle frequenze di ETV canale 12 che in streaming sul nostro sito ora inquadrato www.etvmarche.it In apertura di questa edizione torniamo sulla tragedia di Fano, uccide la moglie poi tenta il suicidio ma dietro questa storia sentirete nelle interviste raccolte dalla nostra Laura Meda una storia di fatica, di sofferenza, di malattia mentale e di un uomo lasciato apparentemente solo 70 anni lui, 66 lei, una vita insieme fino al tragico epilogo La tragedia è avvenuta ieri sera in una villetta del quartiere Poderino a Fano in via Montefeltro A dare l'allarme uno dei due figli della coppia che li attendeva per la cena Insospettito dal ritardo intorno alle 20.30 l'uomo si reca a casa dei genitori Trova la madre, Rita Talamelli, nella sua camera da letto, senza vita Accanto a lei il padre è Angelo sfuggiti, cosciente ma sotto shock oltre che intontito dai barbiturici L'anziano avrebbe ucciso la moglie strangolandola a mani nude poi avrebbe tentato di togliersi la vita imbottendosi di pillole I sanitari arrivati sul posto non possono far altro che constatare il decesso della donna Avvenuto, sembra, diverse ore prima ma sarà l'autopsia già disposta dal magistrato a dare dettagli precisi Il marito invece viene portato all'ospedale Santa Croce di Fano, non sarebbe in pericolo di vita L'uomo, piantonato dalle forze dell'ordine, è in stato di arresto con l'accusa di omicidio volontario Gli inquirenti ascoltano per ore nella notte i due figli della coppia All'origine del gesto, secondo indiscrezioni, una malattia psichiatrica che aveva colpito Rita e che negli ultimi tempi si era sempre più acuita Angelo, raccontano i vicini, lontano dalle telecamere Le stava sempre dietro ma ultimamente la situazione era divenuta sempre più insopportabile Aveva dei problemi, una grossa depressione Sì, sì, perché lui non riusciva più a gestirla Angelo Sfuggiti era molto conosciuto in città Aveva gestito insieme al fratello fino al 2018 la pizzeria di Rosciano che ancora oggi, dopo il cambio di gestione, porta il suo nome Una meta popolare e frequentatissima, ricordano alcuni clienti Quasi un'istituzione dove spesso capitava di vedere insieme tutta la famiglia, anche Rita Tempi felici, quando ancora probabilmente la malattia della donna non si era manifestata Era molto bravo, era un grande pizzaiolo e quindi la gioventù della gente che usciva dal cinema andava a mangiare una pizza a mezzanotte Senta, invece la famiglia con la moglie Ah, una bella coppia, erano tutti in famiglia Ci spostiamo ora a Pesaro dove è caccia allo stupratore evaso la paura tra le vittime nel servizio Lo cercano oramai anche fuori regione Federico Marcelli, 48enne e ristoratore pesarese è evaso lo scorso 15 novembre dagli arresti domiciliari staccando e facendo sparire il braccialetto elettronico Marcelli era stato condannato a valio titolo per violenza sessuale maltrattamenti e lesioni ai danni delle sue ex compagne che tramite il loro legale avevano sottolineato più volte la sua pericolosità Purtroppo non mi vede stupita rispetto a questo tipo di epilogo Io sin dall'inizio di questa situazione avevo già condensato in alcune memorie che l'unica misura che poteva essere sufficiente per evitare una reiterazione del reato o il pericolo di fuga era proprio quella carceraria In effetti quest'uomo era detenuto in carcere poi c'è stata appunto questa modifica da parte della Corte d'Appello perché il Tribunale di Pesaro ha sempre ritenuto che l'unica misura fosse quella carceraria però in Corte d'Appello appunto c'è stato questo alleggerimento della misura con questo epilogo che è un epilogo che ha creato veramente terrore per le mie assistite Marcelli potrebbe essersi dato alla fuga per il timore di finire dietro le sbarre il prossimo primo dicembre una pronuncia di inammissibilità da parte della Corte di Cassazione sul ricorso presentato dal suo legale gli avrebbe aperto immediatamente le porte del carcere La paura però è che Marcelli si faccia vivo con le sue ex specialmente con il figlio che ha avuto da una delle due un incubo che si ripete per le donne Il pericolo è che magari dopo un primo periodo di allontanamento questa persona si ripresenti e possa non soltanto fare del male ma magari anche portare via bambini o comunque situazioni di questo genere sono comunque delle donne con dei bambini piccoli e sono delle donne sole Al momento le due ex ascoltate ieri dai carabinieri sono sotto la protezione sia dell'associazione Gensnova sia delle forze dell'ordine ma si chiede il legale quanto potrà durare tutto questo In questo caso secondo me c'erano tutti segnali d'allarme che dovevano portare a tutelare al massimo queste donne Peraltro si tratta di persona recidiva perché comunque oltre alle mie due assistite c'era già stata una precedente condanna per fatti similari Purtroppo mi rendo conto che alle volte si dice i domiciliari o comunque il braccialetto elettronico ma il caso di oggi ci dimostra che non sempre questo è sufficiente Cambiamo argomento passiamo al meteo perché vi confermiamo che anche oggi dopo l'allerta gialla di ieri c'è lo stesso tipo di segnalazione allerta gialla sulle marche per vento forte e rischio mareggiate anche oggi ci saranno precipitazioni su tutta la regione in quantità minore rispetto alla giornata di ieri Piogge che dovrebbero terminare con la serata di oggi Voltiamo pagina parliamo ora di una bella iniziativa da Porto Sant'Elpidio la festa dell'albero Sono già tre anni che piantiamo ogni anno 100 piante Quest'anno arriviamo addirittura a 141 che sono tante piante quanti nati nel 2022 aderendo alla legge che appunto prevede proprio questo di piantare un albero per ogni bambino nato Questo proprio per essere da esempio noi a queste generazioni future che vediamo un futuro sempre più incerto per loro Per promuovere queste azioni di benessere bisogna essere tutti sulla stessa direzione coesi Amap in questo c'è, su questa strada e con questo impegno quello di dare qualità e vivibilità al nostro territorio e di farlo mettendo a dimora piante della sua biodiversità quindi tutto il nostro territorio marchigiano avrà un suo filo conduttore attraverso le piante che Amap sta mettendo a dimora nei suoi vivai sperimentali, vivai forestali quindi per noi è un motivo anche di crescita e di grande lavoro sul territorio e di conoscenza perché ecco un altro importante step che Amap deve raggiungere è quello della sua conoscenza perché poi i suoi servizi importantissimi legati all'innovazione, alla tutela delle biodiversità e delle qualità che la regione Marchi sa esprimere è una mission che deve essere comunicata perché più soggetti, più persone riusciamo a contattare e più semplificherà il lavoro di Amap come ogni nuova nascita è un nuovo inizio, una nuova vita anche piantumare nuovi alberi è una nuova vita significa dare attenzione a quello che è il nostro territorio per cui io ringrazio veramente di cuore il circolo cittadino e legambiente per aver voluto fortemente questa iniziativa così come ringrazio l'Amap che è sempre vicina ai comuni nella gestione e nello sviluppo di queste iniziative in tutto quello che riguarda l'ambito della tutela del nostro paesaggio e di quelle che sono le nostre matrici ambientali è tutto, vi lasciamo alla sintesi della nostra rassegna stampa buon proseguimento con ETV Grazie a tutti